Buongiorno a tutti Finalmente ci si vede nelle pade degli occhi Finalmente Un cotta molto Un cotta veria credo Nessun delle due Sarà solamente il sangue Poi scatta l'arresto Bombardo Eseguitiamo un po' perché mi fa male l'Erene Vai riportagli Entra Adesso Leonardo Lecancione Ma che scherzi A me e mi garpa Mi garpa il labbredotto A me e mi garpa E mi garpa anche di molto Ma non le paga lei l'età L'unica cosa è che una volta c'era Televisori grossi Pesi Ora sono fini Ne porti anche 3-4 alla volta Comunque Una volta facevi un viaggio Carica Scarica Ma come fai Ma come fai Guarda mai C'ho da fare C'ho da fare Non te la posso accendere la macchinetta Se fa un caffè A me e mi garpa Mi garpa il labbredotto